Yo ragazzi, come state? Sper tutto bene? Ecco qua GXRT a fare un Q&A, in tantissimi me l'avete chiesto. Comunque volevo aprire una piccola, diciamo, grande parentesi, ossia che siamo quasi a 100.000 follower. Ragazzi mi mancano 700 follower, e direi che il mio obiettivo di quest'anno è arrivare ai 100.000, l'abbiamo praticamente completato. Allora, queste sono tutte le domande che mi avete fatto, direi di andare. Partiamo con la prima domanda, da Indigo Hackerson. Allora, io ho iniziato a ballare ormai fine 2021, perché in classi durante l'ora di musica la prof ci faceva mettere la musica, e io ascoltavo già, diciamo, la drill, tipo pop smoke, robe del genere. E quindi con i miei compagni in classi iniziamo a ballare stile pop smoke, diciamo. Poi più avanti mi piaceva sempre di più ballar sturdi, e quindi ho iniziato anche a riprendermi mentre lo facevo. E poi da lì ho iniziato tutto il mio percorso su TikTok. Passiamo alla seconda domanda. What do you want to be in the future? Allora, non so ancora chi sarò in futuro. Comunque so che questo percorso su TikTok, sì, sarà lungo, ma avrà comunque una fine. Ma tra qua, a dieci anni, diciamo, comunque rimanere in questo ambito. Comunque tenere la content creation, e diciamo avere una mia entrata monetaria. Poi, da Pinuz. I tuoi genitori cosa pensano di quello che fai? Allora, per loro è sempre stata una cosa un po' più tranquilla rispetto al content delle tastiere. Perché ballare per loro è più vista come, sì, una passione, ma anche più per divertimento, diciamo. Ma ora che, diciamo, sto avendo numeri più alti, anche in giro, magari, che ne so, mi chiedono la foto, così, iniziano a vederla un po' più seriamente. Stessa cosa di me, anche io all'inizio lo prendevo come divertimento. Prossima, da Yasin. Prima di avere 98.000 follower su TikTok, pensavi di mollare? Io non ho mai pensato di mollare. Comunque ho iniziato questo canale neanche un anno fa, e quindi non ho avuto, diciamo, opportunità e motivi per mollare. Non mi sono mai annoiato. Anzi, mi è sempre venuta più voglia. Poi, da Jan Chris, come è nato GXRT? Allora, il nome GXRT è nato casualmente. Quando ho creato l'account ho schiacciato cosa caso sulla tastiera, letteralmente. Questo perché non era programmato tutto questo, io non avevo aperto il canale per fare video, ma solo per guardare TikTok. Solo che me ne sono reso conto a 50.000 follower, tutti mi conoscevano per quel nome, non potevo cambiarlo ormai. Da Croco, ma da come hai iniziato a fare così tante collab e vestiti e te li inviano gratuitamente? Allora, sì, me li inviano gratuitamente come collaborazione, ossia che loro mi mandano il prodotto e io in cambio devo offrire un lavoro, quindi un video, una storia, eccetera. Ho iniziato dal niente, ho scritto all'azienda, mi hanno risposto, la prima collaborazione l'ho fatta a 10.000 follower, e quindi hanno accettato e mi hanno mandato alla scarpa. Poi, da Steph, ti aspettavi tutto questo successo sia dalla parte di tech che dalla parte di dancer? Allora, dalla parte tech sì, perché comunque era un content che in Italia non c'era ancora bene e diciamo non era con così tanto impegno e qualità nei video. Quindi sì, lì me lo aspettavo, invece sull'account Sturdi neanche tanto, perché comunque era una cosa che già esisteva e ormai la facevano tutti. Però sono riuscito ad andare virale e a tenere questa roba di andare virale, perché è facile andare virale, può anche essere fortuna, ma la roba difficile è poi mantenere la viralità, rimanere virali e quindi crescere continuamente di follower. Prossima domanda. When did you get your first viral video? Da Joel. Il mio primo video virale l'ho fatto... Wait. L'ho fatto il 25 marzo. Questo qua, quello Sturdi. Che ha fatto un milione e tre di visualizzazioni. Poi, da Giacomo. A quanti anni hai iniziato a creare il tuo percorso e cosa ti hai spinto a farlo? Allora, contando che ho creato GXRT un anno fa, avevo 14 anni appena compiuti, e mi ha spinto la voglia di condividere agli altri la mia passione. Questa è interessante. Da Gianmaria. Preferisci il mondo del tastiere o quello dello Sturdi? Allora, ultimamente ammetto dal profondo del mio cuore che preferisco la parte Sturdi. Non ho più la voglia di prima di fare i video. Tranquilli che non lo mollo Tom Moogstack. Però diciamo che ora mi viene più voglia di uscire, andare fuori a ballare, andare a Milano, che star a casa a fare i video di Tom Moogstack. Ma comunque non lo abbandono. Da Daniel. Five Drill Song. Ehm... Wait. Direi oggi Sky. Poi, da Matteo Tonino. Shoes preferita. Ragazzi, per forza le Balenciaga Track. A parte che mi piacciono un casino, ma con i led potete matcharla tutto. Sono fantastiche. Poi, da Mattia. Real name. Il mio nome è Tommaso. Niente, solo questo. Da 44 Mahamud. Non arrabbiatevi se sbaglio i nomi. Quanti anni hai? Io ho 14 anni, ma ora è venerdì 8 dicembre e mercoledì prossimo faccio 15 anni. Sono nato nel 2008. Da Calva. Da dove è partita l'idea per fare video su YouTube? Allora, principalmente perché dopo un po' TikTok, sì, rimane un posto dove va virale e dove cresci tantissimo di numeri. Però è un posto che se devi guardare poi il futuro non ti darà troppe opportunità. Secondo me YouTube è molto più importante. Ovviamente non ha senso aprirlo subito. Infatti io l'ho aperto, sarà stato due mesi fa. Questo perché sfrutti anche TikTok per alzare di follower su YouTube. Perché su YouTube è molto più difficile andare virale. Poi, da Shula Christian, progetti futuri. Progetti futuri in specifico, magari avere opportunità di creare contenuti con persone ancora più conosciute, più famose. Far parte di qualche videoclip di qualche mio rapper preferito americano. Riuscire a collaborare con brand un po' più importanti. Diciamo, ho tanti progetti piccoli ma allo stesso tempo grandi, ecco. What are you going to do at 100k followers? Allora, penso di fare un bel link up. Non so ancora quando perché è una cosa bella grande da organizzare. Dove faremo una story di battle e in premio ci saranno delle scarpe. Se ne riuscirò a fare un link up farò un giveaway tramite TikTok. Solita roba, commenti, tag, quello, quell'altro. Chi vince gli spedisco le scarpe. Da Tina, do you have a dog? Non ho cani. Ho avuto tanti animali, io sono sempre stato un amante dei rettili e degli anfibi. Ho avuto un iguano, ho avuto le salamandre, ho avuto tutto di più. Ma al momento ho zero animali. E niente ragazzi, questo Q&A è finito. Ringrazio tutti per avermi fatto tutte queste domande. E fatemi sapere se volete una seconda parte di un Q&A. Noi ci vediamo nel prossimo video. Da CXRT è tutto.